Un momento molto triste per Taranto, la storica casa del libro, la libreria mandese, sita in via d'Aquino, che ha rappresentato la storia di Taranto, la storia culturale della nostra città, una storia di cultura, di impegno sociale, sì, verso la cittadinanza ionica, ha deciso di chiudere, di cessare l'attività e avremo pertanto un'altra saracinesca tristemente chiusa. Un borgo che si desertifica, la triste storia di tante librerie tarantine storiche, penso a Egidio Leone, penso a Filippi, penso alla Ubic. E allora bisogna anche capire perché in un centro storico, ripeto, nel cuore del cuore della città, certi centri culturali chiudono irreversibilmente. Sì, certamente c'è il fatto che ormai è tutto internet, si vive di digitale e la carta stampata ha perso tanto, ha perso tutto, è cambiata la nostra vita. Sì, è vero, però in tante città italiane, nonostante ovviamente il cambio di passo tecnologico, le librerie continuano a esistere e a rappresentare la memoria storica, vivente della città vivente della città, di un nucleo cittadino, un'amministrazione come quella di Taranto guidata da Rinaldo Melucci, un'amministrazione incapace, sta spopolando questa città, sta desertificando questa città ed è ovvio che poi anche nel cuore del borgo umbertino le varie attività commerciali ne risentano in maniera molto ma molto forte, molto ma molto marcata. Se una città si desertifica, se un borgo si desertifica, se le attività commerciali chiudono, c'è una muria, sembra davvero una muria di attività commerciali che chiudono, basti vedere le insegne, chiuso, affittasi, chiuso, affittasi, è ovvio che i riverberi si verificano, vanno a colpire anche delle realtà, ripeto, storiche, gloriose, come la casa del libro che è partita da Antonio Mandese. È molto apprezzabile anche il gesto dei Mandese che manterranno la loro attività su Via Ligure e hanno deciso di donare all'amministrazione comunale la disponibilità della struttura con annessi gli arredi e i libri proprio per far sì che questa casa del libro, questa che era la casa del libro, che non sarà più la casa del libro, resti comunque come un centro culturale per Taranto. Penso che sia un gesto bellissimo di amore infinito verso la nostra città. Ma, ripeto, questa libreria che mi fa venire in mente tanti ricordi della mia infanzia, dei regali che mi facevano i miei genitori, mia zia, la cultura del libro, beh, questa chiusura è davvero un colpo al cuore. Rinaldo Melucci, che parla di rinascita di Taranto, di ecosistema Taranto, dovrebbe davvero recitare lui e la sua amministrazione, quella attuale e quelle precedenti con cui appunto il primo sindaco ha governato Taranto, beh, dovrebbero fare un doveroso mea culpa, battersi tante volte la mano sul petto e riconoscere la loro incapacità, il loro aver ingessato la città, che ovviamente produce anche la morte di attività storiche, aventi un valore culturale, morale e sociale ineguagliabile. Grazie